Parcheggi più sicuri per biciclette e monopattini sharing, ma non solo. Alla fermata eurmagliana della metropolitana a Roma arrivano i primi bike box. Molti però non sanno di cosa si tratta. Sai cosa sono le bike box? No. Devo vedere, le conosco. Bike parking è il nuovo progetto di Roma Capitale, ideato per limitare il parcheggio selvaggio dei mezzi a noleggio e per prevenire i furti dei veicoli personali. L'accesso al servizio per ora è gratuito solo per i possessori maggiorenni di abbonamento Metrebus, ma si stanno studiando altri metodi di pagamento. Alcuni cittadini sembrano d'accordo sull'iniziativa. Secondo me è utile, cioè è una cosa molto utile, però non lo so che fine faranno. Altri sono scettici. Per come è gestita questa cosa è uno spreco di denaro pubblico a tutti gli effetti. Io non la uso di frequente, ma quello che posso dirti è che non mi è sembrato di essere utilizzate tantissimo. I bike box sono prenotabili tramite l'app Bike Parking. Bici e monopattini restano così al coperto fino a che la scatola non viene sbloccata dall'app. Un passo importante, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, che ha presentato l'iniziativa insieme all'assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Il progetto ora è di estendere i box a tutte le stazioni della metro.